Lo so, lo so, lo so, è dura, è tosta, è difficoltosa da digerire, è pesante come un macigno, però come direbbe l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, spiazze, ma siamo ancora primi! DIAVOLI ROSSI O NERI, ma che bello essere milanisti, che bello avere un cuore così e non guardate le mani, guardate le braccia, dovete sapere che ieri sul 2-0 mi arrivavano tanti di quei messaggi, ma tanti di quei messaggi sul 2-0 per il Verona che mi hanno impallato il telefono, avete visto, perdete, adesso perdete punti, rimanete dietro, la festa è finita e alla fine il Milan vince un'altra volta, nel secondo tempo, rimontando, era già successo che il Milan doveva rimontare con tutte le difficoltà del mondo, ma questa gente non ha ancora capito una cosa, che il Milan, oltre a giocare bene, oltre a superare tutte le difficoltà di questo mondo, perché comunque eravamo in piena emergenza, il Milan ha una cosa che le altre squadre non hanno ed è un fattore determinante, e che cos'è? Il gruppo! Noi abbiamo il gruppo! Noi abbiamo il gruppo forte, il gruppo solido, e anche gente che entra nel secondo tempo, entra con voglia, con determinazione, con carattere, si suda la maglia, anche gente fuori dal progetto, che ormai era fuori dal progetto, si suda la maglia fino all'ultimo, questo, ragazzi, è il fattore che poi ti risolve le partite, è determinante, ma adesso ne andiamo a parlare, perché poi c'è da parlare del rigore di Kalinic, del rigore di Kalinic, perché io già ieri mi ero imbestialito, però lo volevo andare, io avevo già il dubbio ieri, però volevo andare a riguardarmelo bene, e adesso vi faccio vedere le immagini, e c'è stato qualcuno che mi ha scritto sotto nei commenti o in privato su Instagram, il rigore di Kalinic, era netto, ma cosa guardate? Era netto, smettetela di fare le storielle, Ma che cazzo state dicendo? Adesso ti faccio vedere, ma cosa? Ma che cosa state dicendo? Il rigore di Kalinic era inesistente, era inesistente, già ieri sera c'era il dubbio, ma poi riguardando le immagini, adesso vi faccio vedere, adesso vi faccio vedere, se no mi incazzo di prima mattina. Prima di tutto, iscrizione al canale, mi raccomando, è completamente gratuito, non costa nulla, grazie mille a tutte le persone che si sono iscritte ieri sera, mi raccomando, lasciate il like, il pollicione su, almeno 100 like per questo video, attivate la campanella, e sempre forza diavolo contro tutto e contro tutti! Diavoli rossoneri, partiamo subito, lo voglio sparare a bomba, e poi parliamo della partita, del rigore di Kalinic. Io dico no, ma quando la finiamo di mandare questi cazzo di albitri a San Siro a rompere le palle? Quello con l'Atletico Madrid, quello di ieri, con l'Atalanta non eravamo a San Siro, ma anche là ce ne hanno combinate ricotte di cru, ma come fanno le persone a dire che questo rigore c'era? Ma si vede benissimo nelle immagini che è Kalinic, che fa il furbo con esperienza, probabilmente lui con l'esperienza ha voluto prendersi il rigore, ma però l'albitro se ne deve accorgere, visto che c'è il VAR anche, è Kalinic che mette il piede davanti a Romagnoli, scalpestandogli anche il piede glielo prende anche, Romagnoli si trova davanti il piede di Kalinic e lo colpisce, ma è Kalinic, è Kalinic che fa il furbo e mette il piede davanti, ma come si fa a non vedere una roba leggere? E poi mi sono venuti a dire che il rigore del Milan era esistente, era esistente! Per tutte queste persone io consiglio Gaviscon, lo potete trovare in farmacia, non fa male, una bustina, la mandate giù, vi prende qua, vi si forma una specie di patina qua e non brucia lo stomachino, andiamo a parlare della partita ragazzi che è meglio, lasciamo stare queste storielle, tanto abbiamo vinto, un Milan due facce, primo tempo da dimenticare, io mi ero già preparato un altro tipo di discorso, ieri sera come vi ho detto non sapevo se dare la colpa alla stanchezza che si era vista, Salemakers molto stanco, Davide Calabria molto stanco, tanti tanti giocatori veramente ragazzi che non li vedevo in palla, probabilmente colpa della nazionale, non lo so, poi volevo dare comunque la colpa agli infortunati, troppi infortunati, emergenza, c'era stato comunque il rigore di Kalinic che secondo me non c'era, ma poi nel secondo tempo il Milan si trasforma. Milan si trasforma perché? Perché abbiamo, oltre al gruppo, tutti i giocatori sono determinati, anche quelli che arrivano dalla panchina, anche ragazzi, un giocatore come Samu Castiglieco che era fuori dal progetto Milan e a me è dispiaciuto tantissimo quando è stato insultato Samu Castiglieco tempi fa, perché comunque un giocatore può piacere e non può piacere, però non si meritava quegli insulti da parte di tanta gente, non capisco perché l'hanno insultato, perché Samu Castiglieco comunque è uno che si suda sempre la maglia, sarebbe sempre sudata, poi un giocatore può piacere e non può piacere, però non meritava gli insulti. Mister Pioli ragazzi, secondo me, Mister Pioli, e anche se ci rapiscono i giocatori, gli alieni, atterrano a Milanello e ci rapiscono i giocatori, lui sa come metterli in campo, trova sempre quel tocco di classe per fare in modo di ribaltare la partita, perché anche ieri nel secondo tempo sotto di due gol senza giocatori uno dice, ma che cazzo farà? Ha mezzo Samu Castiglieco e Krunic e sono stati ragazzi i due giocatori che hanno svoltato la partita, perché con i suoi sprint Samu Castiglieco ragazzi, ieri era imprendibile Samu Castiglieco, Krunic una grandissima partita quando è entrato anche lui, arriva il gol di Giroud su Raffaleao, su assist di Raffaleao anche lui, ottima partita da quando è entrato, quindi i cambi che ha fatto Mister Pioli sono stati determinanti anche ieri sera. Raffaleao crossa, Giroud che nel primo tempo è stato uno dei peggiori colpo di testa, Samu Castiglieco entra in ballo nella storiella Milan-Verona, perché si procura il rigore del 2-2, è autogol il 3-2, ma comunque c'è lui, ci mette lui lo zampino perché cerca in qualche modo di sviare dei giocatori del Verona, mette in mezzo, poi il giocatore del Verona fa una banana e fa autogol, però ragazzi veramente tanta tanta roba e vi faccio vedere le immagini della fine della partita, con un Samu Castiglieco che dopo tutto quello che è passato, ha passato scoppia a piangere in lacrime, ed è stata un'immagine veramente veramente toccante ragazzi, mi è dispiaciuto veramente tanto per questo ragazzo. Ritorno in campo Zlatan Ibrahimovic, quei pochi palloni che ha toccato li ha resi sempre pericolosi, lo abbiamo visto tutti, quindi smettiamola col fatto che Zlatan Ibrahimovic, per me Zlatan Ibrahimovic può giocare anche 10 minuti, ma sono determinanti, e uno che fa un gesto atletico, che ha cercato di fare la rovesciata, è sinonimo che il giocatore sta bene, sta bene, Zlatan Ibrahimovic può dare ancora tantissimo a questo Milan. Comunque ragazzi oggi è domenica, voglio solo godere anche perché l'interiere ha perso, quindi godo il doppio, siamo come il Magnum, godiamo il doppio, iscrizione al canale, sempre forza diavolo, dai ragazzi che oggi ci guardiamo, oggi ragazzi dovete sapere che la partita di ieri, io l'avevo detto che avevamo vinto, che segnava Giroud, io immaginavo il gol di Giroud, non so perché, poi come è andata la partita, vabbè lasciamo stare, però il gol di Giroud l'avevo detto, e io vi dico che la partita di ieri è stata una partita da 6 punti, non da 3, da 6 punti, perché la Juve oggi perde punti, o la Juve o la Roma, o la Juve o la Roma perde punti. Ci vediamo domani.